la portilla quando parte questa qua deve individuare basta basta non arriva in terra che cosa? ma che senso anche se no non arrivo quando arrivo a coppare e ho visto ma l'ho visto la pressa lo fa scattare la pressione che lo fa partire prendiamo un bicchiere prendiamo un bicchiere era grande era grande era grande spazzoso come che ci fugga un mattello